L'area delle valli etrusche con i suoi 140.000 abitanti, compresi tra Piombino e Rosignano, è l'unica zona in Toscana a indice di rischio zero per il Covid. Lo sostiene una ricerca dell'azienda regionale di sanità che, oltre a rilevare e pubblicare il dato, afferma che parametrando il numero degli infettati alla popolazione si ottiene un quadro epidemiologico molto confortante. È un dato epidemiologico difficilmente spiegabile dal punto di vista scientifico. Ci sono dati epidemiologici che forse richiederebbero uno studio un pochino più approfondito. Indubbiamente rispetto alle zone centrali della Toscana, questa è una zona periferica dove c'è una minore tendenza all'assembramento, ma indubbiamente sia dal punto di vista politico che dal punto di vista tecnico la Società della Salute ha lavorato molto sulla prevenzione e fin dall'inizio, fin dall'inizio della pandemia della primavera scorsa, ha preso molto seriamente questo problema. Secondo l'Ars, se tutta la Toscana avesse gli indici delle valli etrusche, l'intero Gran Ducato si troverebbe comodamente in zona gialla. Il merito di Ciò per gli addetti ai lavori è da ricercare nell'ottima pianificazione territoriale portata avanti dalle USCA, capaci di seguire a domicilio centinaia di pazienti non gravi. Sicuramente il buon andamento della pandemia nel nostro territorio può essere elemento almeno parziale di studio e di valutazione. In fin dei conti, come in tutte le patologie, è l'esperienza poi quella che fa la differenza.